Aspetta, aspetta, zĄmba mo, zĄmba mo, zĄmba mo, zĄmba mo, z Tucker ZĄmba zĄmba di nuovo ZĄmba in Kunden ZĄmba 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 z page ZĄmba 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 B boarding Ci siamo trovi a bracciare Abbiamo fatto reconciliation Switch No Brew Fall Hey guys Benvenuti sul canale degli detention la brothers noi siamo diamendo la prova ovvero salvatore e jonathan e siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo video di super mario 3d world non cadere non cadere quindi siamo gasati super che mai come una coca cola già salvatore subito vuole imbrogliare già nei titoli nemmeno vuoi era una provocazione sto scherzando scherzando nessuno imbroglia oggi oggi è il giorno non broglie dei disse colui che rubò il video precedente ma non è vero il re della giustizia oggi è il non broglie dei hashtag non broglie dei va bene e dobbiamo fare il livello 67 167 che sia 167 allora miniera degli stordini tu sei un po stordino oggi sono stupido ma è quello sempre quindi mario e luigi let's go let's go questa diceva una mia manager luigi 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 io già ho schiattato un po e sono diventato uno che questo poi è un castoro uno scoiattolo non l'ho mai capito un animale sempre tutto 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 tu sei pieno di animali che non capisci animali io sono io un animale e andando ci siamo oh il coso qua si può andare aspetta il coso là sotto ce lo tombiamo no 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 è giù e non possiamo scendere più ormai ma li la dice prima ma è troppo tardi o è troppo tardi ma la viva dice prima e intanto lui va avanti guarda vabbè non fa niente se vinci oggi oggi vuoi essere lì però almeno almeno non mi far morire qui sotto come si fa sotto terra con i cosini ce la siamo tombata mi sa perché dovevamo andare da sotto forse boh non lo so non mi ricordo non me non me lo acuerdo pure spagnoli siamo diventati spagnoli attenzione che c'è il muro nero di bello figo che ci viene di o mio zio o mio zio attenzione il lui non paga affitto quello si è resuscitato si chiamava lazzaro lazzaro stamattina ti aspetta ti aspetta zomba verso l'infinito e oltre attento no no mi ha fatto male mi serve un funghetto qualcosa è un funghetto allucinogine parisi già anche non si deve usare la troca non vi trocate non vi trocate non vi trocate e lui si fa i funghetti allucinogine non mi saltare in testa e vai zomba 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 bravo ma rimasto me l'hai lasciato a morire peccato hai fatto un peccato ma fa la brighierina per riuscire per te io sono un grande da capo perché da capo perché non abbiamo presi check point e che come che è il point dell'allenatore del portiere di torino quelle art non conosci nemmeno il portiere dove sono siamo andati troppo veloci ma avanti prima eravamo troppo lenti ma siamo oh la tartaruga guarda io io no sono andato così da questo sono così avanti che se mi guardo indietro guardi il futuro si sono stupidata la posso dire solo io conga vai in sincronia proprio bravo brava come due fratelli ma alla fine mario e luigi sono fratelli noi siamo fratelli quindi siamo a posto fratelli di sangue guarda no no ma schiattato ma schiattato sono rimasto proprio attenzione a bello figo attenzione a alla fine sono diventato un anetto sono un bambino bravo bravo bambino bravo bambino luigi io tomba attenzione non fare lo stupido prima era un vecchietto ma qua sono un bambino sulle versioni bambino o lei o lei ce l'ho fatta almeno non perdiamo almeno non perdiamo aspetti c'è il muro c'è il muro di berlino aspetta aspetta tombo 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 va a prendere le monete alla cacca aspetto di qua io sono sfaticato mi metto di qua e basta mi sono sfaticuto vai o corre corre lui guarda lì guarda lì come vuoi e tonos ci siamo proprio abbracciati abbiamo fatto fiu 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 mi ha ucciso usate la maglia di son gold star you can't see me john cena abbiamo trasformato mario in un gameplay di ww maio time è il nombre di dei ma non il noscardea dei noscardea dei ma come la capisco quando dobbiamo fare aiuto ai castello di roma principessa tifosa del napoli chiede aiuto ma il castello o il mondo di rossi questo è il castello e si mi sa che dobbiamo fare questo questo è il castello non è rossa è blu aia ma oggi mi vuoi uccidere tentato omicidio carri bombardieri dobbiamo fare carri bombardieri vi voglio bombardare carri no carri carri mi hai studiato con tutte quelle roba il primo un bugno poi la cuscinata ok non vuoi andare avanti dobbiamo aspettare con calma il treno deve venire da noi dobbiamo uccidere gli strumenti che vado a prendere il treno attenzione non voglio perdere la corona c'è pure la bomba tira la bomba tira la bomba sensuale ma mi metto molto sexy allora salvato ma perché le stupidade le tiri tutti tu guarda ci fatta lungo biselca scusami cosa ho fatto scusami non è niente scusami non è scusami perché le stupidade che cacchio è uscito qua attenzione tutte bombarde bomber uscito bobo virico ho preso una possibilità come ho fatto bom mi sono schiacciato non ho mai schiacciato quello era colorato infatti le tue battute sono a livello di colorato era colorato era colorato il lunico d'avvocato non era colorato si era il tv colorato no no ok a rakini sai che cos'è la rakini no e ti suddici bomba ha buttato la bomba risultati piselli che sono dalla dina e devi saltare a tempo di di stupidanza sono diventato no 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 bravo vai da di cadicno salta salta pezzo la coro ma sono ancora vivo non moriri più sei stato dura a morire nuovi dirivi devi aspetta devo tornare vecchio deve tornare vecchietto eccomi sono tornato bambini niente Devo essere per forza un bravo bambino Bravo bambino E ora pasten Aia No Schiaccia Pure io sono creaturo Oh Fai che cosa a creaturo Ora pasten Sono sparito I sordi Mi sono sudicialato Un'altra volta Sabato stiamo finendo le vite Non abbiamo più una vita Tu ce l'hai una vita sociale Non ce l'hai Una volta ogni tanto Ci siamo schiattati Tutte due Non siamo entrati nel tubo Ci siamo fusionati Guarda tutto verde Quanto è bello Sì Vomita Vomita Guardali quanto è bello Tutto a stile Luigi Devo vincere Ti porti in braccio Il bambino che porti in braccio Perché 2000 punti per me No Oh che smog Che smog ci spuso Eh questo ci fa male Vengono signori Che qui c'è il vino buono La mamma di Paiano Aspettami E me lo dico al suono Guarda che bagarospo Fa tutto lui Non mi fa giocare Mamma non mi fa giocare Mochiamo la mendola madre Ti faccio picchiare Ah no Ma l'ho schiacciato io Non l'ho mai schiacciato No L'ho schiacciato L'avevo schiacciato io Ma non è valido però L'azza Ti porto io Prendo e ti porto via Non sei sfaticato Ti porto io Io vado d'accordo Con gli sfaticatoni Con gli sfaticati Vai Ole Prima io Alla bandiera Prima io Ole Ce l'ho fatta Diecimila Diecimila E vai Jackpot Però sono un bambino Guarda Ehi Ti ho fatto un nuovo Zo telefoni Stiamo giocare È importante È una cosa importante Livello completato Vedi Abbiamo completato il livello Vediamo che ha fatto il re Cioè non solo con i diecimila punti finali Ma porca Oggi era il non Non broglie dei E si vede chi è che non broglia mai Ma che dici Ma non è vero Quando non si imbroglie Non si difende il re Ma che dici Non imbroglio perché Tu hai imbrogliato Però io non ho detto niente Io ci ho bruciato Io ci ho bruciato All'ultima tutto Il boss finale Perché si è diventato re Ho imbrogliato Il boss finale mi hai fatto dare un colpo Pensa solo questo Vai vai Non dire facettaggini Bastava un colpo e ti arrivavo Quelli punti Che mi arrivavo Che mi arrivavo Credete va bene Andiamo a vedere dove andremo nel futuro Qua e poi va bene così Nel niente No Che è successo Sulle patanelle No È un circo Cioè ci sono i clan Su Che come ha fatto Quando mi so Tappa Quando mi sa Punta la paletta No Quella è un'altra Vabbè ragazzi Il video finisce qui Come è stato Dalle nuvole E dal cielo Di super mario Vi salutiamo Se il video vi è piaciuto Lo lasciate un bello Mi piace Condividete su facebook twitter google plus O fungo Voi vogliate Non dimenticate di iscrivervi Alla pagina facebook Da chiamando la broder Siamo anche su instagram E asco Quindi a scatoci E fallo Guateci Siamo anche su telegram Quindi telegrammateci E come al solito Se per caso il video non vi è piaciuto Perché possiamo Scusate Pagande Sto facendo emine No Ti facendo lo stupido Se per caso il video non vi è piaciuto E quindi cliccate Non mi piace Da parte di luigi e mario Grazie ragazzi Da gli amendola brothers Al prossimo video Ciao a io